Ora et labora et legge è la sintesi del programma di vita che san benedetto ha espresso nella regola Croce, aratro e libro sono i simboli, gli strumenti dello stesso programma indicati da Papa Paolo VI nella proclamazione di San Benedetto patrono d'Europa Nei secoli, contemperando quotidianamente meditazione, preghiera ed esercizio della carità con attività sia intellettuali che di ordine pratico, nei monasteri benedettini nacquero invenzioni e si svilupparono tecniche innovative contribuendo al progresso umano in tutti i campi Che il baco da seta abbia viaggiato dalla Cina all'Occidente nascosto nel bastone di due monaci è forse una leggenda è storia invece che furono i benedettini ad avviare la produzione della seta nella zona di Padova e con quei fili lucenti a bellissime mani hanno creato autentica bellezza L'origine dell'allevamento del baco per produrre la pregiata seta si perde nella leggenda In una di queste si narra che l'introduzione della cultura del baco si deve a due monaci e missionari che spintisi fino alla Cina, loro ritorno nel 551 d.C. si presentarono all'imperatore Giustiniano Egli narrarono di aver visto che la seta è prodotta da animali ed aver imparato ad allevarli Portarono con sé le uova del baco da seta nascosto e nel cavo dei loro bastoni di bambù La laboriosa lavorazione della seta comportava un costo elevato che poteva essere sostenuto solo da pochi Nobili e clero infatti erano gli unici che potevano permettersi tale prezioso tessuto Esso non solo veniva utilizzato per confezionare abiti di dame e cavalieri e paramenti sagri ma veniva anche utilizzato in fili per ricamare gli stessi Il ricamo nel Medioevo era un'arte antichissima che rappresentava il modo più semplice per personalizzare e abbellire i capi di abbigliamento che venivano indossati da figure di spicco sia politiche che religiose aumentandone così prestigio e dignità Il termine ricamo deriva dall'arabbo racam, disegno e si intende la rifinitura di capi mediante lavori ad ago utilizzando filati di seta, cotone, lino, lana e anche perle e pietre preziose Nel Medioevo oltre a questi filati venivano utilizzati fili nore ed argento ricavati da fili di seta attorno ai quali venivano avvolte le lamine metalliche I temi da ricamo erano raffigurazioni di animale, pianti, fiori e temi religiosi La chiesa assegna al ricamo il compito di edificazione religiosa e didattica I ricami narravano scene del Vecchio e Nuovo Testamento e immagini di santi I punti base frequentemente utilizzati nei ricami medievali erano il punto erba il punto catenella, la serie dei punti a croce, il punto filse e il punto spaccato tutti realizzati mediante l'inserimento del lago sia dal dritto che dal rovescio dei tessuti Nel Medioevo gli agli utilizzati erano di legno, osso oppure venivano utilizzati a cule di porco spino I ricami venivano eseguiti sia su seta che con base in lino poiché i materiali serici sono di più fragile consistenza o su tessuti più pesanti come il lino e il cotone Dal Medioevo fino al XVI secolo inoltrato i ricami sono portatori di leggende e poesie profondate e radicate nei popoli I ricamatori più famosi, vale a dire quelli che lavorano per le principali corti d'Italia e d'Europa erano solitamente uomini, ma le donne e anche monache erano sempre affidati ricamo coi fili d'oro e d'argento per arricchire non solo vestiti di dame o abiti liturgici degli alti prelati ma anche con faloni e stendardi Grazie per la visione Grazie per la visione!